Più energia pulita autoprodotta, più economia circolare e aiuti alle piccole e medie imprese, fino al 60% dei costi per la realizzazione di impianti di energia da fonte rinnovabile. È la svolta green delle misure di agevolazione regionali con un obiettivo preciso, l'autonomia energetica delle imprese. Così la Giunta ha modificato gli aiuti per rispondere al fabbisogno delle aziende, messe in ginocchio dai costi sempre più insostenibili dell'energia. Un pacchetto di nuove linee di indirizzo, reso necessario dalla crisi energetica determinata dal conflitto in corso tra Russia e Ucraina e dalla lunga congiuntura economica negativa legata alla pandemia prima e alla guerra poi. Oggi presentiamo un incentivo importantissimo per la transizione energetica ed è la modifica del bando titolo secondo, dando la possibilità a tutte le imprese di installare sui tetti a propria azienda un impianto fotovoltaico, un impianto eolico, un impianto in generale di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo energetico. La battaglia per il risparmio energetico passa attraverso la produzione di energia da fonti rinnovabili. Abbiamo utilizzato il titolo secondo, capoterzo e caposesto, che è lo strumento, il bando più utilizzato della regione Puglia, che può essere conosciuto già da gran parte delle imprese e che può avviare questa nuova stagione, che riguarda le piccole imprese, gli artigiani, ma riguarda anche le grandi imprese. L'altro fattore importante riguarda l'economia circolare. La sfida dell'economia circolare si ha attraverso il protagonismo del pubblico, così come stiamo facendo nel piano rifiuti, ma anche con il privato. La riconversione di impianti di energia e gli impianti di trattamento rifiuti è una delle sfide, gli obiettivi della nostra amministrazione.